pronto ciao andrea sono max ti devo chiedere una cosa si aspetta max andrea ascolta taglia bene le carotte di sedano che noi della juventus rispettiamo le regole della cucina e della ricetta in perfetto stile sabraudo va bene presidente taglio tutto presidente ma ci fa apperlo a casa sua mi dispiaceva lasciarla a casa senza lavoro e allora l'ho assunto come cuoco in perfetto stile sabraudo si sono molto felice e cucino con molto entusiasmo sono divertito ascolta ti chiamavo per il mercato stai tranquillo max stiamo trattando lucatelli proviamo a tenere ronaldo ma chi se ne frega di ronaldo sposta allora io vado al ritiro ma li voglio desciio voglio desciio guarda max desciio sta tornando dal prestito e vogliamo cederle cosa voglio no allora andrea adesso sto prendendo la calma gli ho chiesto tre cose 3 voglio quadrato di bala che deve fare di ora in mediano e desciio centrale va bene se lo rispettate voglio se rispettate quello che si è detto io ho tornato a vedere i cavalli con ambra eh voglio adesso prendo la calma va bene max stai calmo adesso parlo con cherubini vediamo cosa fare vedi adesso ci siamo ha visto adesso ci siamo dai voglio vado a lasciare la partita di basket che è molto interessante ciao pirlo uscirà bene vado sì max cucino bene continuo a cucinare con molto entusiasmo ciao